Promettetemi di ascoltare Dicey. Mollava tutto a me. Cammineremo lungo la Statale 1 fino a Bridgeport. E Abigail, che sarebbe la nonna dei ragazzi. Non ti ho detto di entrare. Sei tu la nonna? Sì. Lei non vuole che restiamo qui. Sarà meglio mettersi a fare qualcosa di utile. Immagino che ve ne andrete domani, no? Bisogna cogliere i pomodori maturi. Quattro ragazzi soli, l'incontro con una nonna dura e la nascita di un affetto. Finalmente a casa. Un film con Anne Bancroft. Tua sorella era preoccupata. Tu invece no, vero? Io no. Questa sera alle 21.05.